Post partita Real Madrid 2 Napoli 1 primo tempo, se volete andare a vedere il post partita del secondo tempo basta schifare Io ho finito gli oggettivi per Jude Ben, basta, no 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 Jude devi fermarti, non sei legale, no non sei legale Sei troppo forte, io ve lo giuro, ve lo posso giurare, non ho mai avuto un pupillo in assoluto così grande da quando vedevo un giocatore Con Bellingham mi ci sono fissato, non potete capire perché a me piacciono tanti i calciatori, a me piacciono tantissimi i calciatori Ma Bellingham forse è in assoluto quello, che porca miseria, forse è il mio pupillo in assoluto più grande in questo ultimo anno È incredibile, è incredibile, incredibile Real Madrid che è al momento in bandaggio per 2-1, il Napoli sta facendo quello che può Dare colpa al Napoli mi sembra follia, o almeno mi spiego meglio perché magari così non mi capite Dare troppe colpe al Napoli, criticare eccessivamente Valterone Mazzarri che non si trova in una gran situazione Ha rotto Olivera, ha rotto Olivera non vuol dire che lui ha rotto Olivera, semplicemente si è rotto Olivera Si è rotto Mario Lui, non ha Osimane, con chi cavolo giochi, con Real già è impossibile far risultato al Bernabeu È impossibile per il Napoli far risultato stasera Ma è quasi impossibile ragazzi, il Napoli sta facendo quello che può Poi ci sono state delle retture difensive sbagliatissime, sul 2-1 di Bellingham Perché la palla di Alaba, quel cross dalla sinistra è da campione Perché Alaba è veramente forte come calciatore Cross dalla sinistra, Nathan che fa? Nathan che fa? Come segue Bellingham? Lasci solo Bellingham che sarà alto più di un metro e novanta Più di un metro e novanta, tipo un metro e ottantacinque sarà E tu lo lasci solo, con Rachmani che guardava non so che cosa, guardava il cielo Assurdo, letteralmente assurdo, non puoi lasciare Bellingham da solo Infatti Mazzarri si è arrabbiato giustamente Però il Napoli era pure passato in vantaggio Con un gol di Giovanni Simeone, lanciato titolare Su un cross di Kvatsker dalla sinistra di Lorenzo Prolunga, Simeone la butta in rete Con l'un che non riesce a fare il miracolo Poi neanche 30 secondi dopo pareggio a Real Il Real non verrà mai ricordato per il gioco che esprime Ma il Real verrà ricordato intanto per i giocatori che ha avuto e che ha tuttora E soprattutto per come affronta queste partite, per la reazione Il Real non ha un gioco meraviglioso Ma ha la reazione, ha le palle, ha i cosiddetti attributi Ha i cosiddetti attributi che servono a convinzione come la Champions Il gioco, il non gioco, siete fissati con sta roba Siete fissati Perché a me fa piacere vedere le squadre che giocano bene Ma ragazzi, il Real è ricordato non per come giocava a pallone Ma per come reagiva dopo i gol subiti Per i calciatori che aveva Per il fatto che non muore letteralmente mai Questa è la forza del Real soprattutto Ha dei giocatori fortissimi, non muore mai E sa reagire bellissimo Il gol di Rodrigo è bellissimo Dopo una Veronica di Brian Diaz Gioca a Fanzo 9, Rodrigo la mette sotto l'incrocio Intanto giro palla il Napoli Ma giro palla lento raga Però raga, criticare troppo il Napoli mi sembra follia Io credo che Al Napoli questa partita Freghi il giusto Nel senso, per il Napoli il primo posto è impossibile È quasi impossibile Stiamo parlando di una squadra che è quarta in campionato Te la vai a giocare contro la Tipo la prima In Liga Mi sembra abbastanza impossibile Quindi infatti Di Simeone non è che ha risultato così tanto Di Lorenzo non è che ha risultato così tanto Ma si è visto le fracce ragazzi Neanche Mazzarri Quindi questa partita per il Napoli Non conta poi così tanto E fa male dirlo Però Comunque il Napoli è in una situazione veramente brutta E onestamente Contava molto più la partita al Maradona Che questa partita Però Il Real Sta facendo sempre il suo solito gioco Di partenze, contropiedi Ancelotti Ancelotti Fine Post partita Real Madrid 3 Napoli 2 Post partita del secondo tempo ragazzi Ed è questa una vittoria A meno che succeda qualcosa di clamoroso Che Era preventivabile Credo che chiunque avrebbe Dato la vittoria Del Real Madrid Non dico certa Ma molto molto Probabile insomma E Vi dico Mi aspettavo Un Napoli Peggiore Invece Sono soddisfatto Della prestazione del Napoli Che è comunque uscito Con onore dal Bernabeu Per Gaeta Non è stato Un calcio Spettacolare Però il Napoli Ha comunque fatto Due gol al Bernabeu E il secondo gol È molto bello Di Anghissà Dopo una bella palla Dalla destra Anghissà Dopo Ancna Un tiro ribattuto Segna Un gol Molto importante All'esterno Anzi no Scusate All'ingrocio Dei pali Un gol Che ha Che ha pareggiato I conti E che ha fatto Sognare il Napoli Per buona parte Della partita Però Raga Il Real Madrid Il Real Madrid Come vi ho detto prima E Il punto è che Il Napoli Si è chiuso Per Intanto qui Cos'è successo Ah Simulazioni Di Cagliuste Simulazioni Di Cagliuste Già ormai Ragazzi Ci sono gli arbitri Che appena Cade in area Di rigore O ti danno Il rigore Certo Oppure Ti danno Il giallo Per simulazione Dipende Vi ha un po' Segui effettivamente Simulazione Boh Io Questo non è mai Il rigore Però non avrei Dato il giallo Però vabbè Stavo dicendo Il Napoli Si è chiuso Per quei 4-5 minuti Che tanto Sono bastati Per farsi Creare Potesse creare Quelle 3-4 Occasioni Pericolose Mett fa due miliacoli Uno su Bellingham Di piede E uno su Rudiger Un bel colpi testa Quindi comunque Il Real Poi segna il gol Che vale il 3-2 Dopo altri due Errori clamorosi Sottoporta di Giuselu Anzi Un errore clamoroso Sottoporta di Giuselu Di petto La manda alta E Segna il gol Che vale Il 3-2 Con Un Gioiellino Della cantare Del Real Madrid Anzi no Un gioiellino Sì Della cantare Del Real Madrid Che fin qui Aveva trovato Poco spazio Ossia Nico Paz Che fa due Delle giocate Interessanti Sul gol Delle 3-2 Fa una bellissima Perioetta Su Caglius Lo aggira Calcia Meret Non riesce A trattenere Il pallone E Nico Paz Fa un gol Sicuramente Degno di nota Fatto sta che comunque Il Real Vince pure questa partita Però il Napoli Nesce con onore C'era una cosa Nella quale Quarascheva doveva dare Il pallone A Osimè L'ha dato Ma è stato Un pallone intercettato Dopo che il Real L'ha scoperto E rientrato Con 2-3 uome Con un salvataggio Oserei dire Decisivo Problemi Abbastanza seri Per quanto riguarda La fase difensiva Abbastanza imbarazzante Stasera In alcuni tratti Della partita Non tanto per il numero Dei gol subiti Ma più che altro Per come sono stati subiti I gol Non tanto Il terzo Ma i primi due Sono abbastanza gravi Perché il primo due È un recupero È un recupero Palle di Brian Diaz Però Non puoi prendere Gol dopo 21 secondi e mezzo Un po' grave E il secondo È chiaramente Di disattenzione Difensiva Grazie a tutti